In studio Valentina Frasca. I reati ipotizzati sono concorso esterno in associazione mafiosa, istorsione, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, un arresto e oltre 50 milioni di beni sequestrati particolari nel servizio. Un'operazione antimafia su larga scala sull'asse Italia-Brasile è scattata questa mattina impegnando le fiamme gialle del comando provinciale di Palermo e il personale della Polizia federale brasiliana. Ha arrestato un imprenditore originario di bagheria da tempo trasferitosi in Brasile e sequestrati beni del valore di 50 milioni di euro a lui riconducibili, oltre che beni immobili e immobili di altre 17 persone tutte indagate e di 12 società operanti nel settore immobiliare ed il ristorativo. La direzione distrattuale antimafia di Palermo ha contestualmente ordinato 21 perquisizioni in Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto e all'estero Brasile e Svizzera. Nelle abitazioni, nelle sedi societari, negli studi professionali, i reati ipotizzati sono concorso esterno in associazione mafiosa, esorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L'operazione giunge al culmere di una complessa attività investigativa sugli interessi dei esponenti di spicco di Cosa Nostra Palermitana e in compagini societari in Italia e all'estero. Trovate tracce di consistenti investimenti, di capitali, di matrice mafiosa, in iniziative imprenditoriali e in società di diritto brasiliano tutte abilmente schermate attraverso l'utilizzo di prestanomi e di società di comodo. Il denaro, secondo le indagini, è giunto a destinazione tramite sofisticati meccanismi di riciclaggio e conti di transito accesi negli istituti finanziari esteri. Al vertice di questo sistema, uno dei più autorevoli uomini d'onore palermitani dal 2018 reggente del mandamento mafioso di Pagliarelli, sino al suo arresto nell'aprile del 2021, che sino al 2000 ha stretto un'alleanza con l'imprenditore bagherese. A fornire loro il supporto necessario al perfezionamento di articolate operazioni societarie in Italia, Brasile, Svizzera, Odokong e Singapore, ha affermati professionisti, tra questi due operativi in Emilia-Romagna, regione dove l'uomo d'onore, dopo un precedente periodo di detenzione, per alcuni anni aveva vissuto. Grazie al sostegno di questa rete, il suo delizio, dopo aver realizzato alcune lucrose iniziative imprenditoriali sul territorio nazionale, tra cui un noto resort in provincia di Trapani, a partire dal 2016, ha spostato il baricentro dei propri interessi in Brasile, potendo lì contare sull'appoggio di un altro imprenditore romano, arrestato nel 2019 perché ha ritenuto il mandante di un omicidio. Secondo una stima preliminare, è quantificabile in oltre 500 milioni di euro il valore patrimoniale di tutte le società nell'orbita del suo delizio criminale. Rapiena, ieri sera a Modica Bassa i danni di una tabaccheria all'interno, c'erano due commesse, il ladro ha agito indisturbato. Corso Umberto a Modica, poco prima delle 10 di sera, ieri è stato teatro di una rapina ai danni di un tabacchi. Come si vede dalle immagini, un uomo si è introdotto all'interno dell'attività commerciale ed ha raggiunto la cassa, mentre le due donne presenti all'interno del locale commerciale sono scappate a chiedere aiuto. In credulo, un passante guarda cosa sta accadendo all'interno del tabacchi e si allontana, mentre la gente seduta ai tavoli esterni del vicino bar attonita assiste impotente alla scena. Le indagini su quanto è accaduto sono della polizia di stato di Modica che sta cercando di risalire all'identità del malvivente. Un uomo all'apparenza giovane dalla carnagione scura che non avrebbe proferito parole e che quindi non avrebbe reso possibile risalire alla provenienza. Una volta dietro il bancone avrebbe estratto una rivoltella per poi concentrarsi ad aprire il registratore di cassa e portare via le monete. Il malvivente ha portato con sé i contanti presenti all'interno dell'attività per poi dileguarsi sotto gli occhi attoniti di passanti e turisti che in quel momento affollavano Corso Umberto. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha espresso solidarietà e sostegno all'attività commerciale colpita dalla rapina. Ieri sera ha condannato il gesto e ha evidenziato piena fiducia nelle indagini della polizia di stato per consegnare alla giustizia l'autore del crimine. E torniamo a parlare del CCPM di Taormina. C'è preoccupazione da parte del capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars anche perché non potranno più essere concesse proroghe e della deroga ancora non c'è traccia. La proroga fino al 31 luglio 2025 per il CCPM di Taormina è l'ultima che il Ministero della Salute e quello dell'Economia hanno accordato alla regione siciliana e se non c'è possibilità di rinnovo non è neanche certo che arrivi la deroga. Ha denunciato il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca che non nasconde diverse perplessità dopo aver letto il documento dei ministeri in cui si evince come la regione non ebbe neanche inenviato la documentazione richiesta da Roma. De Luca punta il dito sia contro il governo regionale precedente che contro quello attuale poiché, secondo il deputato, c'è la chiara intenzione di smantellare questo reparto. E si paventa anche la possibilità di trasferire il tutto a Messino a Catania potenziando uno dei due reparti di cardiochirurgia insistenti sulla costa orientale come il Papardo di Messino o quello del Policlinico Rodolico San Marco di Catania con la competenza atta a gestire anche la casistica pediatrica. E adesso Schifani cosa sta facendo? Non si comprende se sta correndo il ripario o sta fingendo di correre ai ripari. Perché vede, premesso che ancora non è stata trasmessa alcuna documentazione a corredo di una richiesta di deroga ma sono state richieste soltanto delle proroghe quindi ad oggi la Sicilia come ieri può avere solo una cardiochirurgia pediatrica Questo documento del Ministero dice tante altre cose e è anche particolare il fatto che individui delle sedi perché individuare le sedi delle unità tocca alla rete sanitaria, tocca all'assessorato non tocca al Ministero dirci dove dobbiamo fare le cose. Serve garantire la salute dei piccoli pazienti e serve che sia il bambino Gesù a farlo. Nel documento infatti non si legge di una ulteriore convenzione con il bambino Gesù ma si parla solo di continuità del team finora operante. Una parte del personale piegato a Taormino fa capo direttamente al bambino Gesù una parte del personale fa capo all'aspa di Messina quindi non è automatico che nel momento in cui tu vai a spostare determinati asset l'intera equip si trasferisce è proprio il bambino Gesù che non vogliono perdere è proprio l'equip che non vogliono perdere. E naturalmente tornano a parlare anche i genitori dei piccoli pazienti che chiedono la continuità con il bambino Gesù. Penso che qualsiasi tentativo per il mantenimento e la stabilizzazione del CCPM debba essere messo in atto per non disperdere le professionalità e il grande livello assistenziale raggiunto che consente di dare risposta a bambini cardiopatici siciliani, italiani e provenienti a diverse razioni del mondo. E il commento del direttore del reparto di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale di Taormina, Sascha Agati che commenta appunto la notizia che la proroga data al centro fino al 31 luglio 2025 sarà l'ultima. Come infatti si legge nel documento del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia non ci saranno più proroghe e si paventa anche la possibilità di trasferire il tutto a Messina o a Catania una possibilità che le famiglie commentano così. Abbiamo detto noi genitori diversi articoli dove si prospetta anche l'eventuale spostamento del reparto in altre strutture ospedaliere, strutture più complesse. Non abbiamo notizie certe in merito potrebbe essere credo una eventualità però noi riteniamo che di avere naturalmente la garanzia da parte del Ministero e della Regione di comunque mantenere il reparto con le stesse caratteristiche e le stesse modus operandi quindi la stessa equip che ne ha fatto fino adesso un'eccellenza a livello internazionale. Non siamo disposti naturalmente ad accettare ridimensionamenti per quanto riguarda il CCPM e nessun cambiamento nel modo di esercitare la professionalità e naturalmente l'umanità che viene a essere elargita in questo reparto. L'aeroporto di Comiso è pienamente operativo così la SAC ha voluto replicare dopo il nostro servizio andato in onda ieri. La SAC, la società di gestione degli aeroporti di Comiso e Catania ha tenuto a precisare che contrariamente alle segnalazioni che sono arrivate ieri con le foto che ritraggono l'aeroporto Ibleu Vuoto intorno a mezzogiorno invece era operativo e come dimostrano le foto scattate verso le 12 di oggi era pieno di viaggiatori in attesa di imbarcarsi sul proprio volo. Lorenzo Mazza, imprenditore che fa parte del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell'aeroporto dell'Ibleu ha scattato la foto chiarendo che i passaggieri si stavano già imbarcando per Roma. Dal video che ha girato all'interno dell'aeroscalo invece il tassista Paolo Crucifisso componente dello stesso comitato si nota dalla tabella degli arrivi nella giornata di ieri a partire dalle 13.10 che erano in programma a sei voli di cui tre in ritardo. Domenica è stata una lunga giornata di attesa all'aeroporto Piola Torre dove i passeggeri hanno pure dormito sui sedili. I ritardi degli aerei sono talvolta inevitabili ha scritto la SAC in una nota che ci ha inviato come nel caso del volo delle ore 14 per Roma che come è citato nel servizio a causa di un problema tecnico non è stato possibile far partire in orario. Stiamo lavorando incessantemente per risolvere il problema e dividero oltre i disagi ai passeggeri cercando di fornire loro ha scritto la SAC la massima assistenza possibile. È anche vero che alla luce dei servizi denunciati per i voli cancellati in ritardo proprio ieri intorno alle 12.47 avevamo chiesto chiarimenti chiamando l'accountable manager della SAC, Rosario Di Bernardo senza ricevere alcuna risposta replica che poi è arrivata con una nota stampa della SAC nel pomeriggio di ieri. Avremmo anche voluto parlare con la presidente della SAC Giovanna Candura che abbiamo chiamato ieri alle 11.49 ma ha risposto che era impegnata nella sua veste di vice sindaco di Caltanissetta rimandando per le dichiarazioni all'amministratore delegato Nico Turrisi al quale avevamo chiesto un'intervista già una settimana fa e siamo ancora in attesa di parlare con lui per informarvi anche sul futuro dell'aeroporto di Comiso. A Comiso sempre dove stanno suscitando parecchie prese di posizione le dimissioni dell'assessore alle finanze Giuseppe Arezzo motivate con problemi di natura personale. Secondo il PD e la minoranza consigliare certificano il grave stato delle finanze in cui versa il Comune. Sta suscitando un vivace dibattito politico a Comiso la notizia delle dimissioni dell'assessore alle finanze Giuseppe Arezzo. Ad annunciarle è stato il sindaco Maria Rita Schembari e questa mattina PD e gruppi consigliari di opposizione sono partiti all'attacco. A stupire più che altro sono i tempi visto che come fa notare il capogruppo del PD al Consiglio Comunale Gigi Bellassai le dimissioni avvengono a ridosso di ferragosto e subito dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 che presenta 5 milioni e mezzo di euro di disavanzo e 20 milioni di fatture da pagare. La sindaca Schembari ha motivato la decisione dell'assessore con una insostenibile inconciliabilità tra l'incarico stesso tra i più delicati dell'ente e le molte responsabilità della professione privata e ha poi aggiunto rimane il privilegio di avere condiviso questa delicata fase del mio secondo mandato con una persona specchiata moralmente e di modi antichi e gentili senza passare sotto silenzio che a lui la città e l'amministrazione devono l'avere esitato quattro bilanci due preventivi e due consuntivi in un periodo non facile per tutte le amministrazioni comunali dello stesso tenore le parole dei gruppi di maggioranza consigliare Fratelli d'Italia Ideazione e Comisovera che dicono di prendere atto con il rammarico delle ragioni esposte da Arezzo di natura esclusivamente privata rimangono il lavoro svolto i rapporti umani caratterizzati da grande correttezza e l'eccellente capacità di mettere tutti in condizione di capire al meglio una materia tecnica e complessa quale la finanza pubblica era prevedibile questa defezione afferma il capogruppo di coraggio Comiso al Consiglio Comunale Salvo Liuzzo i continui commissariamenti i consueti ritardi nella presentazione dei bilanci i frequenti richiami dei revisori dei conti e il disavanzo certificato dal consuntivo 2023 esitato l'altro giorno nonché l'enorme massa passiva di fatture insolute per quanto elementi non riconducibili al suo operato ma ad una gestione generale per così dire disinvolta hanno comportato questa scelta inevitabile sarebbe stato ingiusto doversi accollare il fallimento dell'ente quando tutti sappiamo che al dottore Arezzo non è possibile attribuire colpe anche Gaetano Scollo segretario cittadino e consigliere comunale del PD di Comiso ha parole di stima e apprezzamento per Arezzo ma le dimissioni scrive sono l'ennesima conferma del grave stato delle finanze in cui versa il comune di Comiso i carabinieri di Cefalù hanno arrestato tre persone due fratelli di 67 e 63 anni e una donna originaria dell'America Latina accusati di sfruttamento della prostituzione e tentata violenza sessuale una rete di prostitute con affitti prenotati sino al 2025 e adesso sono ai domiciliari due fratelli di 67 e 63 anni ed una donna di 52 originaria dell'America Latina tutti accusati a vario titolo di sfruttamento della prostituzione e tentata violenza sessuale l'indagine avviata nel giugno 2023 dai militari della stazione di Lascari ha permesso di accertare come gli immobili riconducibili ai due fratelli fossero utilizzati per sfruttare l'attività di prostituzione mediante la collaborazione dell'indagata che di fatto gestiva le singole ragazze i due uomini avrebbero richiesto il pagamento di 350 euro a ognuna delle prostitute per lo più sudamericane che soggiornavano nei singoli immobili su turnazioni settimanali già programmate come detto sino al 2025 oltre al pagamento della somma di 350 euro le giovani donne avrebbero poi offerto ai due fratelli prestazioni sessuali una delle donne si è rifiutata e sarebbe stata minacciata di dover lasciare anzitempo l'abitazione tra aprile e giugno 2024 sarebbero state 23 le donne sfruttate che avrebbero utilizzato siti di incontro online per procurarsi clienti 560 in totale per 50 euro a prestazione sono stati sequestrati i tre immobili e una cifra pari a 28.350 euro ritenuta provento dell'attività di sfruttamento della prostituzione un 22enne albanese residente a Pedalino è stato arrestato dalla polizia di Comiso per maltrattamenti nei confronti della convivente e del figlio minore picchia la convivente davanti al figlio di tre mesi un 22enne albanese è stato arrestato dalla polizia di stato di Comiso che ha eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare è stato infatti posto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico il 22enne che vive a Pedalino era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento perché è già indagato per maltrattamenti in famiglia in forma aggravata nei confronti della ventenne convivente comisana del figlio neonato vittima di violenza assistita gli arresti domiciliari sono scattati a seguito di un'attività di indagine dopo l'ultimo episodio di violenza a fine aprile 2024 che la stessa vittima ha denunciato dopo aver subito per due anni era sottoposto a continue violenze fisiche e verbali consistite in percosse minacce ingiurie e atti di privazione alla presenza appunto anche del neonato è stata chiesta all'autorità giudiziaria un'adeguata misura cautelare finalizzata a tutelare le vittime ed evitare che l'indagato potesse ripetere le violenze nei confronti dei familiari il GIP del tribunale di Ragusa valutando la situazione e la gravità dei fatti imputabili al 22enne ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico ma il giovane si è reso irreperibile ed è per tale ragione che è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare al fine di garantire una tutela effettiva Un parcheggiatore abusivo all'ospedale Guzzardi di Vittoria è stato denunciato dai carabinieri il 32enne chiedeva monete agli automobilisti che dovevano lasciare l'auto in sosta per effettuare le visite mediche i militari hanno sorpreso il giovane vittoriese una volta giunti sul posto e hanno accertato che nei suoi confronti già in precedenza era stata elevata una sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada inerente dell'attività proprio di parcheggiatore abusivo a Modica continua la polemica legata all'assunzione di Giorgio Falco alla GESCO il PD annuncia una denuncia alle autorità competenti l'amicizia l'amicizia non c'entra ha già chiarito tutto Angelo Giallongo così Giorgio Falco ex consigliere comunale del comune di Modica ed ex presidente della società Acqua e Depurazione oggi al centro di attacchi politici sulla sua assunzione alla GESCO società che ha assorbito alla SPM commenta chiudendo la vicenda denunciata dal PD e da Vito D'Antona a Modica sull'assunzione fatta a chiamata diretta per così dire di Falco all'interno della società ma è tutt'altro che chiusa la vicenda per il Partito Democratico in una dura nota del segretario cittadino Salvatore Poidomani vengono posti una serie di interrogativi al sindaco Monisteri il PD annuncia anche una segnalazione all'autorità competente oltre che alla Corte dei Conti e ricorda a Maria Monisteri e a Saro Viola assessore al Ramo che non è possibile dare incarichi fiduciari nelle società partecipate per il PD si è trasformata una società pubblica in un'azienda privata poi la provocazione che il lavoro inutile assegnato a Falco è tra i compiti dell'amministratore delegato è una cosa di cui sono a conoscenza gli amministratori quali sono poi le competenze tecniche di Falco a parte l'amicizia con Abbate in calza ancora poi domani come giustificano il pagamento di un ulteriore emolumento con il fatto che 48 famiglie debbano ancora percepire dal comune ben 11 mensilità di stipendio oltre al TFR interrogativi come detto posti all'amministrazione comunale quest'ultima ieri reduce da un vertice con avvocato e ditta si dice consapevole di aver operato giustamente applicando l'articolo 11 del contratto sottoscritto a maggio con la Gesco che prevede l'assunzione di figure professionali competenti in materia la linea passa alla regia per qualche minuto poi la seconda parte di MTG seconda parte di MTG a Palma di Montechiaro sorgerà il primo cimitero islamico della provincia di Agrigento è stato sottoscritto in prefettura ad Agrigento il protocollo che porterà alla realizzazione a Palma di Montechiaro del primo cimitero islamico dell'Agrigentino un'area appositamente dedicata alle sepolture di quanti non sono cattolici che fino ad ora su richiesta dei familiari sono stati traslati nel cimitero islamico di Messina la comunità islamica di Agrigento aveva tanto il desiderio di questo cimitero abbiamo inseguito questo progetto questo obiettivo da parecchio tempo e finalmente con il dottor Filippo Romano il prefetto di Agrigento il sindaco di Palma di Montechiaro si è potuto realizzare un grande obiettivo in occasione del progetto di ampliamento del Campo Santo di Palma di Montechiaro il sindaco Stefano Castellino aveva accolto l'appello della prefettura ed è stata destinata a un'area del campo terra che non toglierà spazio né ai loculi né alle cappelle dei cittadini non abbiamo avuto finora in provincia un cimitero islamico la cui necessità si è resa evidente soprattutto con il fenomeno dell'immigrazione sappiamo tutti che Agrigento è la porta d'ingresso per l'immigrazione irregolare in Italia e l'immigrazione irregolare è gestita da trafficanti senza scrupoli che si fanno pagare cifre importanti dai migranti per trasportarli poi in condizioni spesso pericolosissime Palma ha risposto con orgoglio presente perché il gesto di umanità non è un gesto eccezionale ma è un gesto appunto da essere umano per consentire a chi non riesce ad arrivare nei nostri territori o a chi vive ormai qui da noi e ha diritto alla sepoltura di dare un luogo almeno lì un luogo di pace per l'eternità c'è un grave problema a alghe nei torrenti di Catania e in tanti chiedono analisi e controlli sembra un manto erboso più che acqua ma che ci sia tutto questo verde in alcuni torrenti catanesi non è strano succede anche questo a causa delle alte temperature un fenomeno quasi normale da qualche giorno infatti le acque dei torrenti come il Forcilo o quelli vicini alla zona industriale si presentano di un verde acceso come ci spiega un'esperta la professoressa di igiene ambientale Università di Catania e Gea Oliveri Conti si tratta di una proliferazione di alghe serve però capire da cosa sono alimentate dobbiamo ricondurre questa fioritura sicuramente a un'alta concentrazione di sostanze organiche che non è diluita come normalmente sarebbe avvenuto con le normali piogge che si sarebbero succedute sia in primavera che nei primi periodi estivi di fatto noi non possiamo dire senza avere un'analisi molecolare che sicuramente l'ARPA sta facendo per poter determinare la tossicità quindi noi in questo momento se non abbiamo un risultato un esito di queste indagini non possiamo dire che sicuramente siano tossiche anche perché di fatto i nostri mari già contengono tutte quelle specie tossiche che in realtà poi diventano tossiche solo in condizioni particolari ambientali le sostanze organiche sono tutte quelle sostanze che noi usiamo nella nostra pratica quotidiana dai detersivi all'urea a tutto quello che noi immettiamo in queste acque ovviamente bisogna verificare se queste acque siano opportunamente depurate prima di arrivare in questi torrenti come scolo certo è che bisogna approfondire così come chiede il consigliere comunale Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi diciamo che questo è un processo naturale quello appunto della creazione di queste alghe il problema è capire cosa c'è in quelle acque è chiaro che l'amministrazione ma soprattutto la Sidra l'ARPA e l'ASP dovrebbero approfondire un attimino la questione ricordiamolo dico anche il presidente della Sidra che è il commissario straordinario per le acque per la depurazione delle acque dovrebbe quanto meno dare delle risposte anche sulla condizione generale che abbiamo su Catania e la zona industriale ancora oggi la situazione ogni anno tra l'altro con la chiusura anche del canale è sempre la stessa Ieri pomeriggio a Marina di Ragusa un torneo di basket organizzato dall'AIL per ricordare Giuseppe Scalone Memorial Giuseppe Scalone ieri a Marina di Ragusa promosso dall'AIL Iblea per ricordare la figura del direttore finanziario scomparso lo scorso anno a 37 anni a causa di un tumore fulminante al cervello familiari e amici si sono riuniti per l'All France Game un torneo di basket 3x3 che è stato oltre che un momento di sport anche un pomeriggio di memoria e di festa 8 le squadre in campo a dimostrazione di una grande partecipazione sul podio al primo posto le truppe cammellate al secondo gli almanacco premiato anche Emanuele il giocatore più giovane all'evento ha presenziato pure una giovane donna che da tre mesi sta lottando contro il cancro e che ha voluto portare la sua toccante testimonianza per lanciare un appello alla prevenzione Giuseppe era ragusano ma da alcuni anni viveva e lavorava a Milano dove gli amici lo hanno voluto ricordare nei mesi scorsi con una prima edizione del Memorial dal momento della terribile diagnosi a quello della morte sono passati appena sei mesi inutili cure ed interventi restano l'amore della compagna e dei genitori in prima fila ieri visibilmente emozionati è una giornata molto importante tutti gli amici di Giuseppe hanno voluto dedicare al nostro figlio questa mezza giornata di sport di amicizia di solidarietà per noi per noi è una grande emozione oggi ringraziamo tutti tutti i ragazzi questi splendidi ragazzi che hanno voluto organizzare hanno voluto dedicare questo ricordo a Giuseppe e gli siamo tanto grati in archivio la prima edizione di sabbie di Sicilia a Marina di Ragusa ha decretato i vincitori del campionato regionale di serie B di beach soccer al termine di tre giorni si tratta del pro Ragusa nel maschile e della Virtus Marsala nel femminile la formazione Iblea ha battuto lo sporting al camo per 5 a 1 terzo posto per Cartier Plant Scigli che regola il Taormina soccer school per 5 a 4 miglior giocatore Daniele Arena del pro Ragusa nel femminile la Virtus Marsala si impone sull'unime per 4 a 2 terzo posto per l'ASD Scigli che batte il vittoria per 2 a 1 Teresa Matranga la migliore giocatrice soddisfazione per tutte le tappe anche quelle di Torrefaro San Vito Lo Capo e Marina di Modica è stata espressa dal presidente dei soci Fabio Nicosia Modica Gospel Choir in concerto in piazza Mediterraneo a Marina di Modica la corale diretta dal maestro Giorgio Rizza ha regalato al pubblico una suggestiva performance con voci potenti e melodie che hanno fatto vibrare l'intera piazza special guest Aurelio Pitino direttore nazionale Community Let's Sing Gospel Connection e la partecipazione di Chiara Providenza e Shara Crediamo dice il maestro Giorgio Rizza di aver regalato una serata indimenticabile e di aver reso ancora più speciale l'atmosfera della piazza con la nostra musica prossimo live martedì 20 agosto a Pozzallo alla Villa Comunale alle 21.30 E' tutto per questa edizione MTG torna alle 20.30 Buona giornata l'attenzione . . . . Grazie a tutti.